ben ritrovati amici di auto occasioni oggi mi trovo nel mondo delle moto sto parlando appunto di luciano moto in via circonvallazione 49a a casa al grasso e con me atos l'overa ciao atos ciao elisa ben trovata ben trovati a tutti voi allora atos parliamo di una concessionaria con più di 10 mila metri quadri di esposizione si è corretto quindi impossibile non trovare una moto che fa per sé cerchiamo davvero di averle tutte elisa e negli anni siamo riusciti a separare ogni segmento in in un padiglione a sé per cui trovate il piano dei custom il piano delle delle naked e delle sportive il reparto ducati il reparto ktm mv e oggi siamo in kawasaki bravissime in mezzo alle due best seller appunto della casa di akashi versi 650 sulla quale si è appoggiata te e z 900 la naked più venduta è davvero da dai contenuti ineguagliabili per quanto riguarda gli altri marchi operazione 50 un'operazione che molti hanno tentato di imitare ma impossibile impossibile davvero perché la nostra offre tantissimi vantaggi tra cui appunto spicca la possibilità di pagare soltanto il 50 per cento del valore totale della moto che sia nuova usata è estesa davvero a praticamente tutte le nostre moto in vendita moto scooter o automobili comunque e la moto diventa appunto subito di vostra proprietà per due anni avete tutta la manutenzione scontata del 50 per cento due o tre anni a seconda poi della moto che scegliete e alla fine potete semplicemente decidere se pagare la metà che rimane senza ulteriori costi o in unica soluzione o a rate oppure riportarci indietro la moto godendo fin da subito di un rimborso di almeno il 30 per cento di quello che avete speso per la prima metà oggi come dicevamo siamo con la z 900 e la versi 650 che sono le due moto più vendute di Kawasaki per questo mese soltanto per voi amici telespettatori tutta la manutenzione quindi i vari tagliandi che avrete da fare nei due anni sono inclusi nel prezzo li offriamo noi un'offerta assolutamente imperdibile qui da Luciano Moto guidabili dai 18 anni in su bravissima Elisa entrambe appunto come tanti altri modelli poi di Kawasaki sono depotenziabili e guidabili con la patente a 2 ricordo a tutti poi che venite anche da provare perché abbiamo le moto depotenziate da farvi provare il taglio avviene nella parte alta del contagiri per cui non venite privati di quello che è il piacere appunto dell'erogazione tipica che è di Kawasaki anche qua voglio spezzare una lancia a favore di Kawasaki con la versi 650 che rispetto alle concorrenti giapponesi è comunque molto molto compatta ha una settantina di cavalli per cui risulta con un bel carattere rispetto magari ad altre moto che sono un po più insipide della stessa categoria con un motore che è molto molto pastoso dai 4.000 ai 6.500 giri e poi allunga comunque oltre gli 8.500 per cui davvero divertente e allora seguiteci ancora nel nostro percorso avrete sicuramente riconosciuto il padiglione dedicato all'eleganza e la prestazione parliamo di MV Augusta stato dell'arte su due ruote l'isal assolutamente davvero le moto le moto più belle dove si gode soltanto a guardarle anche appoggiate al cavalletto e qua siamo con la brutale rr che è la quattro cilindri hyper naked di MV Augusta appunto pensa che la naked è più veloce e più potente oggi in commercio sorpassa i 300 chilometri orari e una potenza di 208 cavalli per neanche mille centimetri di cilindrata MV Augusta poi ha a listino anche la versione RS per cui una moto che ha gli stessi dati di potenza e di velocità però votata un po più al comfort quindi meno meno sportiva un po più stradale perché una sella più comoda i semi manubri un po più alti quindi rende la vita più facile anche nell'utilizzo quotidiano. MV Augusta non è solo quattro cilindri ma anche tre cilindri? Bravissima Elisa non soltanto le sportivissime quattro cilindri ma tutta la gamma che monta il tre pistoni di MV Augusta che è 800 con tre cilindri in linea appunto moto leggerissime divertentissime dalla brutale all'F3 che è la media sportiva di MV Augusta alla turismo veloce anche qua un altro best seller perché MV non ha solo moto sportive ma una bella crossover leggerissima l'unica nel segmento a scendere sotto i due quintali di peso pensa che pesa poco più di 190 kg con le valigie fantastica davvero assolutamente dotata dell'esclusivo sistema SCS che è una frizione semi automatica che rende davvero anche qua la vita agevolata in città quindi ti puoi fermare senza tirare la frizione riparti semplicemente con un filo di gas senza azionare il comando della frizione venitela anche qua a provare e pensa che su MV Augusta la nostra operazione 50% si fa in tre per cui spendete soltanto la metà la moto diventa subito vostra per tre anni manutenzione scontata del 50% quindi gomme pastiglie tagliandi mano d'opera inclusa tutto sconto 50 e ci rivediamo tra tre anni quindi per tre anni state veramente tranquilli continuiamo il nostro percorso padiglione dedicato a due aziende italiane parliamo di Benelli e Fantic cominciamo proprio da Benelli il marchio del leoncino bravissima Elisa azienda storica di Pesaro qua siamo con la TLK251 quindi la piccolina della crossover di Benelli abbiamo ancora qualche unità disponibile a chilometri zero quindi nuove di fabbrica sempre con i tre anni di garanzia ufficiale in cui avete incluso nel prezzo già il bauletto posteriore per cui già pronta per muovere i primi passi e non solo in moto poi tutta la gamma che qua è disponibile quindi dalle 125 alle 800 con tutti i veicoli demo quindi dal sito potete prenotare la vostra prova completamente gratuita non dimentichiamoci poi di Fantic Motor altra azienda che rappresentiamo ufficialmente con la Caballero che ha risvagliato proprio i fasti della casa madre abbiamo anche una rarissima 450 Rally Factory che è proprio la base della moto con cui Franco Picco ha corso la Dakar quest'anno e non dimentichiamoci poi di tutte le altre moto che abbiamo in casa in pronta consegna oltre ai marchi che rappresentiamo ufficialmente tutte quante chiaramente acquistabili con la nostra esclusiva operazione 50% e con la permuta del vostro usato per cui a due, tre o quattro ruote ci interessa che sia in ottime condizioni anche se di valore superiore alla moto che acquistate vi paghiamo subito la differenza per contanti E siamo nel reparto dedicato a Indian, mi trovo su una bellissima Scout, quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche che distinguono le Indian rispetto a tutto quello che è il resto del panorama custom e Nisa di questo segmento appunto sono una maneggiavolezza esagerata e delle doti davvero davvero dinamiche per quanto riguarda il motore considera che comunque ha sbaragliato letteralmente la concorrenza con i suoi 100 cavalli sei sulla Scout 1133 di cilindrata, sei marce, telaio in alluminio per cui delle soluzioni tecniche mai viste fino ad ora anche qua venitela a provare perché rappresenta davvero la differenza cioè pesa come le altre custom concorrenti che arrivano sempre dagli Stati Uniti ma si guida davvero molto molto meglio, molto più maneggevole e precisa Parliamo della vera leggenda americana naturalmente e possiamo dire che veramente ha tantissimi comfort Assolutamente perché possiamo poi salire di cilindrata e di segmento quindi sulle varie Chief o Super Chief la nuovissima 1800 con un telaio tutto nuovo per cui anche qua il classico Big Twin raffreddata d'aria, olio però montato su un telaio molto molto snello quindi con delle dimensioni contenute come quelle della Scout ma completa già di tutti i comfort per cui anche sulla strumentazione molto molto piccola e minimalista non manca il navigatore a LED per cui potete muovervi davvero con tantissimi comfort se poi volete stare più comodi ci sono le varie Chieftain o Roadmaster che è la limousine dove possiamo trovare la sella riscaldata e raffreddata un impianto LED a colori con cui ci possiamo appunto connettere tramite bluetooth col telefono ascoltare la musica con degli impianti audio anche qua di primo livello la primavera alle porte quindi cominciano anche i primi viaggi a Atos e qui è possibile anche noleggiarle sì assolutamente un po' come per tutte le altre motel che rappresentiamo appunto in veste ufficiale come concessionari ricordo che per quanto riguarda Indian siamo esclusivi di Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e potete noleggiare la linea dei vostri sogni, qualsiasi modello previa appunto appuntamento anche soltanto per un weekend o per periodi più lunghi e se alla fine del noleggio poi doveste decidere di acquistarla perché ve ne siete innamorati tutto quello che avete speso per il noleggio vi viene rimborsato quindi quando parliamo di Indian non parliamo solo di custom? no Elisa non dimentichiamoci poi di FTR con cui Indian ha davvero ammazzato il campionato mondiale di flat track le gare che si svolgono nell'ovale di sabbia per cui tutte di traverso anche qua disponibile sia la versione stradale con i due cerchi 17 che invece la versione con i cerchi 18 che è una moto votata anche a percorsi off-road davvero divertentissima, pensa, 1.12 cilindrata, 120 cavalli, 120 Nm di coppia la moto è esageratamente bilanciata e divertentissima venitela a provare perché esce proprio dagli schemi è una moto che non ha un'altra alternativa nelle altre case costruttrici quindi unica nel suo genere unica nel suo genere assolutamente venitela a provare perché rappresenta proprio l'animo sportivo e ribelle che Indian comunque dedica a tutte le altre moto Ci troviamo nel reparto scooter, tantissime unità, più di 300 Atos qui quadro ma poi tanto altro Certo, tutto quello che è il mondo degli scooter Lisa, quindi dal partire dal cinquantino arrivare all'8,50 di cilindrata come dicevi te praticamente 300 mezzi usati e nuovi in pronta consegna ricordo a tutti che abbiamo tutta la gamma Piaggio tutta la gamma Vespa e tutta la gamma Chimco per quanto riguarda il nuovo in pronta consegna su tutti i nostri veicoli poi il grosso vantaggio è che possiamo ritirare la vostra moto, la vostra automobile per cui anche se avete la Goldwin che vale 10 volte il prezzo dello scooter che volete acquistare perché vi ridimensionate non vi serve più la vostra super turistica qua si può fare acquistate tranquillamente il vostro scooter e vi paghiamo la differenza tramite bonifico immediatamente abbinando poi anche questo tipo di operazioni alla nostra operazione 50% per cui anche qua spendete soltanto la metà se pensi che magari uno scooter che costerebbe 4.000 euro oggi puoi comprarlo con l'operazione 50% a 80 euro al mese per due anni quando spenderesti molto molto di più soltanto a noleggiarlo quindi super conveniente assolutamente Atos io oggi ho avuto l'onore di provare quadro è stato bello e divertente e come si dice veramente è impossibile cadere l'ho provato proprio sulla mia pelle come ti dicevo, come ti ho sempre detto Elisa è davvero facile, garantisce un grandissimo comfort, feeling e una sensazione di sicurezza che si può davvero toccare per mano specialmente ancora in questi momenti di stagione dove l'asfalto, la strada non offre il massimo appunto del grip è impossibile cadere per cui si può andare in modo decisamente più veloce e deciso rispetto invece all'utilizzo delle due ruote nella stagione invernale quindi massima aderenza al suolo e pensate che arrivati al semaforo basta appunto azionare i freni e non bisogna mettere giù i piedi assolutamente Elisa massimo del comfort in città per cui pavè, rotaie, buche che sono sempre più frequenti a me nelle nostre città o pioggia, qualsiasi condizione atmosferica l'aderenza è sempre sempre garantita venitela a provare perché qua merita sicuramente una prova un po' più lunga con un po' più di tempo proprio per provare a ricreare delle situazioni magari un pelo critiche nell'utilizzo quotidiano abbiamo una struttura che mette in condizione anche di provarlo al di fuori del traffico bravissima come hai fatto ci sei riuscita sei andata alla grande assolutamente grazie Atos ricordiamo gli indirizzi sì amici centauri vi aspettiamo nella sede principale che è a Casa Algrasso dove potete trovarmi in via Circonvallazione 49A e poi lo store di Cuneo dove potete trovare tutte le moto nuove delle case che rappresentiamo ufficialmente in via Becellio 6 intanto io vi ricordo il sito lucianomoto.com andate a visionarlo per poi ovviamente trovare la moto che fa per voi io ti ringrazio Atos per la tua professionalità grazie a te Elisa e un saluto a tutti voi alla prossima puntata ciao ciao